Nella conferenza stampa di Futura, tenutasi stamattina davanti a Cattinara, è stato fatto il punto sulla situazione pandemica e sulla sua gestione. Tante le critiche, sia verso l'amministrazione regionale, che avrebbe fatto poco in ambito sanitario, tantissimi sono stati paragoni col vicino Veneto, che verso il governo di Roma, giudicato impreparato e tentennante su troppe situazioni, dalla gestione sanitaria a quella dei ristori, non riuscendo a bilanciare tutti i vari interessi e distruggendo il tessuto economico. Nella notte però è stata approvata la manovra finanziaria di bilancio in Consiglio regionale, che ha destinato alla sanità il 60% delle risorse. Alla fine i finanziamenti messi nella finanziaria regionale derivano dalla funzione di mutui, da indebitamento regionale. Io preferirei che questo indebitamento per gli interventi della sanità invece venisse scaricato sullo Stato, liberando risorse in Friuli Venezia Giulia per il sostegno dell'economia. Faccio un esempio che sta soffrendo moltissimo. Dunque è stato rimarcato il paragone col Veneto, elogiando non poco Luca Zaia, che a differenza di Fedriga, a detta di Saro, sarebbe riuscito a gestire l'emergenza con coraggio e decisione. Zaia ha assunto delle decisioni rapidamente. Faccio un esempio sull'utilizzo dei medici di base. Ha preso decisioni imperative, anche contro organizzazioni dei medici, che erano contrari all'utilizzo dei medici di base per fare i tamponi. Ha fatto delle azioni a tappeto sulle case di riposo per cercare di evitare la diffusione del contagio tra positivi e negativi. Ha fatto un numero considerevolissimo di tamponi molto superiori in rapporto alla popolazione a quella del Friuli Venezia Giulia. Zaia è stato sicuramente più decisivo. Poi un passaggio anche sulle elezioni comunali a Trieste. Possibili alleanze per futura o corsa solitaria? Al primo turno non ci saranno delle alleanze. I nostri amici qui di Trieste faranno una forte lista civica e si presenteranno autonomamente al primo turno. Al secondo turno valuteremo in base anche ai programmi che tipo di convergenza si possa realizzare. Grazie a tutti.